L'IVACO PIG FARM in Histel ha deciso di installare una planta di biografica, puoi lo descrivere? Sì, l'IVACO PIG FARM ha circa 11.000 piggi. In fronte, come potete sapere, il manure è un problema, perché abbiamo più animali che l'arrabile per dispostare. Questo ha causato un problema per l'IVACO PIG FARM. In 2013, l'IVACO PIG FARM ha deciso di creare una digestazione di piccola, per trattare la piccola, una fraccia di piccola, una fraccia di piccola, 20 tonne di piccola per giorno, 7 tonne di fraccia di piccola, e anche 3 tonne di stagione di piccola, e anche 3 tonne di piccola, e anche 3 tonne di piccola, organica e biologica. Quindi la planta produce l'elettricità in calcio. È circa 150 kilowatt elettrico, e il co-generato calcio è usato per avanzare il processo di composto, che vedete in fronte, l'ultimo prodotto, che viene da l'installazione di biogas, è composto, e l'ultimo prodotto del composto, è l'elettrico, che è poi exportato a Francia, dove hanno bisogno di più necessità di nutrienti e di organica. l'elettrico è usato nella piccola, perché è una piccola piccola, che usa molta elettrico, ma anche il net surplos è stato esercito nella grida. La planta ha anche installato un pilota di strippare, non è? Sì, sicuramente. Il piccola piccola, che è trattato qui, la maggior parte è prima separata, e l'elettrico del piccola piccola, è prima di trattato, così possiamo recuperare il nitrogene, quindi l'ammonio nitrogene, via la strippare e scrubbing process, in cui possiamo finetture, based sui necessità, tra 50% e 90% del nitrogene, possiamo recuperare, in modo di ammonio nitrate, con un concentrato di circa 18% di nitrogene, sui totali pescola, che è alta, che è un prodotto formato, che può essere usato, come substituire minerali, per cambiare fossili, energetici, fondamentali minerali, quindi è un prodotto biologico, fondamentali minerali, e poi, l'ultimo prodotto della fraccia, dopo che il nitrogene è recuperato, è più post-treato, con l'acqua, in questa facility. Ok, e qual'è il Progetto Digestmark? Sì, il Strippino Scrubbino è stato costruito, ed è stato costruito, in una pilota installazione, qui è parte di un progetto europeo, l'eco-innovazione progetto DigiSmart, containing Belgian partner, ovviamente, ma anche italiani e spagnoli partner. Il progetto DigiSmart ha l'area di un progetto di un progetto migliore, di un progetto migliore, di un progetto migliore, di un progetto migliore, e farla in una produzione di un progetto migliore, di un progetto migliore, di un progetto migliore e di un progetto migliore che possono essere usati come alternativi per farlo-istro di un progetto migliore, e, in questo modo, rendere l'istitore biogas e di un progetto migliore di un progetto migliore sempre più su structure.